Musica Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video della serie di gameplay di The Sims 4 Io sono Jovi e questo è l'episodio 54 Dopo aver l'episodio 53, qua siamo stati da Lisa ed Emanuele La loro bambina, Martina, è finalmente diventata bebè ed ha conosciuto la sua sorellina Francesca Ed Emanuele è finalmente ritornato in vita grazie all'Ambrosia che ha preso alla galleria Eccoci qui nell'episodio 54 Allora, mercoledì avete sicuramente visto l'home tour della casa di Valentina e di Enrico Ed eccola qui al gruscello del Bassotto con i tratti, aspetto solare e terreno ottimo Come casa sono veramente soddisfattissimo, mi è piaciuto tantissimo costruirla E quindi sono davvero molto contento anche per aver utilizzato tutti gli oggetti nuovi di giorno di bucato, cani e gatti Sono davvero molto molto contento Ma prima di andare a trasferire i nostri sim andiamo a gestire le unità familiari Vi voglio fargli vedere qualche piccola modifica partendo proprio da Villa, dalla famiglia Villa L'amico di Emanuele con il quale abbiamo avuto tanto a che fare Eccolo qui Io ho modificato il look e io ho messo questo look quotidiano Che secondo me è molto molto più carino Io ho messo questi abiti di giorno di bucato Anche la capigliatura mi piace moltissimo E io ho messo gli occhi viola per differenziarlo e per far capire che lui è un vampiro Visto che questi occhi così accesi sono comunque esclusivi ai vampiri Poi andiamo dalla famiglia Peterson, la famiglia di noi Simmer nella quale sono presenti Violet e Zoe Ho fatto qualche modifica, infatti Rachel ed Eric che sono i genitori sono diventati finalmente anziani Visto che il tempo comunque va avanti e il tempo vola, eccoli qui E sono diventati anziani mentre Zoe e Violet sono passate di età come già abbiamo visto nell'episodio 51 Ed ecco qui i loro nuovi look Lei ha questa capigliatura molto carina, veramente è molto elegante, mi piace tantissimo come Sim E invece Violet la sorella, le ho messo un abito un pochettino più casalingo, comunque un po' più quotidiano Tra virgolette, ed è sempre di giorno di bucato Con questa capigliatura che è Maxi Smash, cioè un CC che però sembra proprio di The Sims 4 Infatti mi piace tantissimo Adesso andiamo a vedere un'altra famiglia che è la famiglia Leto di Heroic Owl E poi abbiamo finito con le famiglie Allora, vediamo la famiglia di Heroic Owl Sirio ed Ercole sono sempre diventati anziani perché il tempo va avanti Ed eccoli qui, sia Sirio sia Ercole Poi abbiamo Cara e Cassiopea che sono le sorelle di Antares che sono diventate adulte Quindi a lei ho messo questa capigliatura con la frangia E invece a Cassiopea le ho messo un look dedicato agli animali Però con uno stile dark, come vedete anche dal trucco E invece Antares, come abbiamo già visto, è diventato un giovane adulto E' veramente un figo Veramente, è diventato molto molto carino Ed ecco qui la sua capigliatura e il suo look di giorno di bucato Veramente mi piacciono tantissimo gli adolescenti come sono cresciuti Come io ho cambiato il look, mi piace tantissimo Infatti adesso mi piacciono tutti tantissimo Si sono aggiustati tutti con l'età adulta E va bene, qui abbiamo anche Enrico a cui ho cambiato un attimo la parte di sopra Io ho cambiato un minimo il look E Valentina gli ho cambiato tutto, in pratica l'abito quotidiano Perché già avevo detto che volevo mettere questo abito Infatti l'ho fatto, gli ho messo i stivaletti E gli ho messo questa capigliatura che mi piace tantissimo Ed è un po' più lunga e ondulata Va bene, io direi di cominciare a dividere insomma la nostra unità familiare di Valentina Allora, cosa ho deciso per Elisa e Filippo? Loro due rimarranno da soli Li lasciamo stare tra di loro Così con loro vediamo anche delle cose che magari non vediamo da parecchio tempo Come per esempio il club degli aspiranti pittori E direi che secondo me viene una cosa molto molto interessante Harmony però ce la portiamo noi perché Harmony è il cane di Valentina Quindi non possiamo non portarcela Ok, quindi questa è la famiglia di Valentina Abbiamo 22 simoleon, quella la chiamiamo giu 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 Tanto non ha senso Mettere un nome visto che ci dobbiamo trasferire E ci trasferiamo nella famiglia di Enrico Eccoli, eccolo qui Lo mettiamo qui Venti tutti gli arredi, non c'è niente da vendere Ok, quindi ecco la famiglia Guardateli Hanno 44.000 simoleon però E la casa costa 58.000 mi pare Eh sì, costa 58.000 Quindi un piccolo aiutino non fa mai male Quindi dai, vieni qui Questa volta Elisa Elisa dai, dacci un piccolo aiutino per la casa dai Che fra poco andrete anche in pensione Quindi potete darcelo l'aiutino, dai forza Eccoli qui, già hanno dato l'aiutino Adesso puoi tornare a casa tua dal tuo maritino Grazie mille Ritorniamo a 6.000 e ritorniamo da Fippo Perfetto, quindi adesso hanno 64.000 simoleon Senza aver usato trucchi, ovviamente Ed eccoci qui con i 64.000 simoleon che ci servono per comprare la casa Che nemmeno è completa in realtà Ho deciso di utilizzare oggetti che comunque costano parecchio Perché volevo utilizzare sia gli oggetti di giorno di bucato Sia quelli di cani e gatti Quindi alla fine è venuta costosa la casa Direi di trasferirci subito Andiamo La compriamo ovviamente ammobiliata Come già avete visto i muri esterni sono marroni E questo è il suo esterno C'è anche una zona dietro molto carina E penso proprio che faremo un piccolo giardinetto Va bene, quindi andiamo subito con la famiglia Volpe Ed eccoci qui al ruscello del Bassotto È notte, non pensavo fosse notte in effetti Ed Harmony sembra sporca Sì, mi sa che è sporca Guardatela Sì, sì, mi sa proprio che è sporca O è forse la luce che è poca Non lo so Non ho messo in effetti delle luci per esterni Dovrei metterle E comunque eccoci qui a casa Eccola qui Finalmente la loro nuova casa Dove vivranno da soli Ok, intanto direi di entrare Questa casa comunque veramente mi fa impazzire È bellissima Non ho mai fatto una casa così bella secondo me Dai, forse venite tutti qui Anche tu Valentina Venite tutti qua Harmony è affamata Puoi aiutarla dandole un dolcetto Riempendo una ciotola di cibo Va bene Comunque Nell'home tour Già l'avete visto Ho fatto questo ingresso Questa zona studio Diciamo molto molto carina Poi ho fatto questo salotto Che penso sia il più bel salotto Che io abbia mai fatto nella mia vita Cioè è bellissimo Io le librerie poi di solito non le utilizzo Ma questa volta ho visto queste librerie di cani e gatti E quindi ho voluto metterle Ma è stupendo Poi ho messo anche questi lampadari Che ho pensato Questi lampadari mi piacciono un sacco Perché non utilizzarli Usando il rimpicciolimento degli oggetti E infatti è venuto benissimo Qui ho fatto questa cucina anche col paraschizzi Poi qua questa lavanderia Guardate quanto è bello Ho fatto il lato lavanderia e il lato bagno Comunque queste cose già le avete viste Se non le avete viste Guardate è nell'home tour Qui dovrei mettere delle lucine in effetti Però ho messo anche lo standino La tinozza E un piccolo percorso di agiti Piano di sopra ho messo la loro camera da letto Qui ovviamente ho lasciato lo spazio vuoto Perché magari poi servirà come stanzetta Per una futura bambina E io già mi sono fatto un piccolo spazio Proprio per la sua camera Non penso proprio che avranno una bambina Barra bambino presto sinceramente Perché con loro vorrei fare una famiglia tranquilla In cui facciamo tante cose Che non sono permesse di fare Quando c'è una bambina o un bambino Quindi penso proprio che aspetteremo un pochettino Comunque riempiamo la ciotola Visto che lei sta morendo di fame Eccola qui Comunque mi sembrava sporca Ho ragione Armoni mi sembrava sporca Eh si guardate è sporca È sporca Le dobbiamo fare un bagno Ah comunque una cosa che ho fatto Vedendo chi di andare a fare i suoi bisogni Anche che le ho messo i giornali qua fuori Anche se già ve l'ho detto Voglio vedere un pochettino come funzionano E spero che qui con l'incenzo non prenda nulla Fuoco Non prenda fuoco la casa Va bene Io direi di andare a fare un bagnetto ad Armoni Però perché è veramente sporca Sì andiamola a fare un bagno Sì guardate è sporchissima Sa salire le scale Ok Nel frattempo Enrico già si è messo all'opera con il computer Ed ecco qui guardate Anche la capigliatura di Valentina è bellissima Questa capigliatura non è dei The Sims 4 Ma è un CC Maxis Match Ma è stupendo Secondo me è fatto benissimo E ha una forma incredibile Cioè infatti quando l'ho vista me ne sono completamente innamorato L'ho utilizzata già un sacco di volte E mi piace davvero tanto Magari poi posso anche mettere il link Anche se non me lo ricordo proprio Perché già ce l'ho da un annetto Un annetto e mezzo questa capigliatura Comunque vedete Armoni si sta pulendo Eccola qui Pulita Non schizzare tutto però Perché sennò ci bagni tutti Passeggiata breve Che problema c'è Vediamo se ha qualche problema Sì Ha qualche problema perché ha il rosso Mentre lui Come va? Come va lui? Eccolo qui Finalmente lo possiamo controllare Che ancora non l'avevamo controllato Per quanto riguarda le carriere Eh sì Però a questo punto volevo arrivare Per quanto riguarda le carriere Per ora non facciamo niente Perché io volevo Mandarli in vacanza Così non dobbiamo chiedere giorni di vacanza inutili Facciamo prima la vacanza Visto che abbiamo anche 5000 simoll Non direi che bastano e avanzano E poi Andiamo in vacanza E poi Gli diamo i lavori Allora Ecco qui Vediamo un pochettino che problema ha Armoni Armoni deve andare in bagno E va in bagno allora Chi deve andare a fare i suoi bisogni In effetti questi cani Sono un po' scemi In questi squadroni Però perché glielo devo dire io Di andare a fare i suoi bisogni Armoni Ha imparato a fare la pipì All'aperto Forse perché le ho messo i giornali No Non farla Qui Me l'ha fatta sul parquet Di qua fuori Ma no Ci sono i giornali Gli lo possiamo insegnare Magari Di utilizzare i giornali Si sta addestrando Potenzione animali Cambia abito Incoraggia ad accoppiarsi Fingi di lanciare una palla Manda a cacciare Se la mandiamo a cacciare Magari ci porta una piuma Io vorrei tanto che mi Cercasse una piuma Poi qua al quartiere Vedete Com'è bello E' fatto in questa maniera I lotti sono Diciamo un po' isolati Ma ci sta questa strada Che è fatta benissimo Ci sono tutte le macchine Che passano Poi ci sta anche questa zona Diciamo un po' costiera Visto che siamo a Cavalier Cove Perché si chiama così Questa zona Ci sta tutta Questa zona Ci sta anche la spiaggia Ci sono anche i vari animali Qui che cosa c'è? Un gattino Hobby Questo qui mi pare Che era quello lì Che ci invase la casa Insieme agli altri Sì questo me lo ricordo Come nome Qui abbiamo anche altre cose Mando l'animale ad esplorare Questo comune di alghe È stato esplorato di recente Ah quindi posso anche Mandare ad esplorare i cani Con i comuni di alghe Abbiamo anche quest'altro Chiedi di valdo 3 Della abilità di addestramento Di animali Ah va bene Vabbè Diventeremo dei grandi addestratori Lo stesso Nel frattempo Lui ha pulito qui Visto che siete finalmente Arrivati a baciar A A baciarvi A Vivere insieme Perché non vi baciate? Comunque qua ci ha portato Un regalino Vediamo un poco Ce lo portiamo nell'inventario Vediamo un poco Cos'è ci ha portato Scatola misteriosa Apriamola Ha trovato Chiudi il becco È una pallina Va bene Va bene Lo stesso Vediamo dove sta andando Harmony Vediamo un pochettino Di seguirla Troppo carina Guardate come corre Vabbè Da questo si vede Che è un bel cane grande Da questo si vede E si capisce Un bel cagnolone Che ha bisogno Di sfogare Le sue energie E ovviamente Vedendo Harmony Vi ricordo Che Oggi Avete tempo Fino a mezzanotte Per mandarmi Un cagnolino Per Harmony Visto che lei Sta ancora cercando Un amichetto E poi Ci saranno le votazioni La prossima settimana Da lunedì Quindi Affrettatevi Perché Già da sabato Cioè da domani Non sarà possibile E mandarmi I vostri cagnolini Quindi Vediamo un pochettino Se trova qualcos'altro Harmony Guardate come corre poi Vabbè Nel frattempo Che Harmony è andata A cacciare E tutto quanto Vediamo un pochettino Intanto lui è un sim Geloso E si sente Insicuro Ma no Già non essere geloso Io direi anche Di accendere un pochettino Il cammino Sperando di non fare un guaio Harmony Ha sconfitto Uno scogliattolo selvatico In un combattimento Corpo a corpo Perfetto Questa volta Non è stata morsa Come successe Un po' di tempo fa E possiamo vedere Se magari già sono presenti Degli abiti sporchi In realtà non so In quale circostanze Si hanno Degli abiti sporchi Io sinceramente Non ne ho idea Intanto a lei La mandiamo in bagno Poi le facciamo fare una doccia Voglio vedere Se per caso Dopo la doccia Si depositano qua I vestiti Per tempo Harmony Sta ancora cercando Mi sa che ha cercato Anche in quel cumulo Di alghe Quanti cani Questo qui era Genji Si me lo ricordo Genji Era troppo bello Questo cane In effetti Dovevo farlo accoppiare Con questo cane Stupendo Ok Lo smite show È in città E infatti Gli abiti si sono messi Dopo che lei ha fatto La doccia Vediamo un po' Ah è arrivato anche Il comitato di benvenuto Il quartiere ci dà il benvenuto Ah si E questi sim Ovviamente Sono Non i soliti sim Ma sono dei sim Nuovi Tra virgolette Harmony Ci ha portato Qualcosa Si mette seduta Forse vuole Delle coccole Forse vuole E questo ha Ovviamente L'aria Per asciugare Qui possiamo Per caso fare Degli aggiornamenti No E direi di fare Subito il bucato Allora Allora Fai il bucato Lava nella tinozza No Aggiungiamo direttamente La lavatrice Facciamo cose Un po' più comode Ecco qui Perfetto Sta facendo Lava il bucato Lavalo Devi impostare La lavatrice Sicuramente Ho impostato La manopola Perfetto No Guardate che bello Si vede addirittura Il sapone Ma è bellissimo Poi qua mi piace Tantissimo Come ho messo Tutte queste cose Guardate tutte queste mensole Veramente Ho fatto Un bagno stupendo Un salotto Bellissimo Veramente Sono soddisfatto Tantissimo Dovete dirmi voi Cosa ne pensate Nel frattempo Ho invitato i vicini Ad entrare Che è arrivato Su Ria Delgato E Justin Facciamogli Un discorso esortativo Andiamo anche A conoscere a lui Forza Conosciamo un po' I nostri vicini Sul 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 Volevo conoscere Anche la famiglia Quell'altra Non mi ricordo Come si chiama E in effetti Questo è un bel divano Anche per accogliere Le persone In effetti Non ci avevo pensato Ma è un buon divano Per accogliere Le persone Che arrivano a casa Lei è morta Qua sul dia Cioè guardate Da qui No incredibile Ok si è svegliata Vediamo cos'altro Possiamo fare Presentazione Ma no Tu non nemmeno Conosci Harmony Non è possibile Non è possibile Non è possibile Che non conosci Harmony Offriamo un'amicizia Lei non è stata Molto amichevole La carezziamo La odiamo No mi sa Che non sono Proprio Molto amici No dovete Aumentare un po' L'amicizia Perché adesso Vivete sotto Lo stesso tetto Quindi dovete Aumentare Allora La odiamo Le diamo anche Un dolcetto Ma si dai Diamole anche Un dolcetto Cosa le ho detto Sta carezzando Ok la carezza Guardate che carino Come giocano Ok dai Sta aumentando L'amicizia Perfetto Forza Chi andrà a fare I suoi bisogni No Le offriamo Di nuovo Amicizia Vediamo un po' Se accetta La nostra amicizia Impara a conoscere Con un cane Enrico è diventato Conoscente Con Harmony Perfetto Possiamo imparare A conoscerla No 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 Non è stata Amichevole Forse Vabbè Ok Ordini di addestramento Possiamo sederla Possiamo farla sedere Vediamo un poco Sediti Ok acquisito Anche la vita Di addestramento Di animali A questo punto Direi di farla venire Qui e di Incendiare No vabbè Una cosa No questa cosa Non la sapevo Devono essere C'è almeno Quattro ostacoli Affinché gli animali Affrontino un percorso Ah quindi Ne dovrei Mettere un altro Questo Non lo sapevo Proprio Allora Ne mettiamo un altro Non c'è problema Quale ostacolo Posso mettere Però Aspettate Vediamo un pochettino Che ostacolo Posso mettere Questo qui In realtà Questo qui È molto carino E lo potrei mettere Magari Lo mettiamo Qua così Sì E poi Ci facciamo Il terreno Facciamo proprio La striscia Con le pietre Per sottolineare Che questo È tutto Un percorso Quindi facciamo Così Ok Abbiamo finito Perfetto Questo è il percorso Ostacoli Vediamo un po' Addirittura L'incendia Ok È un evento sociale Quello di fare Un percorso Ostacoli Quindi dobbiamo Aspettare Nel frattempo Lei è stanchissima Mamma mia Vai a dormire Allora Nel frattempo Lei invece Ha bisogno Di fare qualcosa Chiediamole che cosa c'è Visto che lei ormai È sempre qualcosa Sembra che Armoni Abbia paura di qualcosa Le serve solo un minuto Per calmarsi Ah Poverina Vediamo un altro dolcetto Muscolo stirato Per una cattiva Sessione di gioco Ma no Addirittura Qua sei un po' Allora Non molto allenato Dovemo andare in palestra A questo punto Vediamo un pochettino Protezione animali Metti il guinzaglio E ne fatti Se andiamo a fare una passeggiata Anzi Facciamo un po' Di jogging Ma si Andiamo a fare un po' Di jogging Con il cane Dai Andiamo a fare un po' Di jogging Per il nuovo quartiere Qualc'ho invitato Di benvenuto Comunque l'abbiamo un po' Salutato Anche se non l'abbiamo Molto considerato Lei forse voleva andare A dormire Ma no Io voglio farti andare A fare un po' Di jogging Eccolo qui Abbiamo messo Gli abiti sportivi Il guinzaglio E direi di andare Tu sai sonno Non metterti proprio A fare il pisolino Ma Ah ma lei è ancora Il diario Si ci può ancora Scrivere In effetti Ah e poi Io l'ho messo Questa pettinatura Per la notte Nemmeno me lo ricordavo Poi se dobbiamo andare Ti diamo di nuovo Il benvenuto Grazie per la compagnia Va bene Quindi non è stato Un brutto incontro Perfetto Non abbiamo fatto Antipatia Invece qui Seguiamo loro Vediamo un po' Che cosa fanno Vedete che carini Lui ha raggiunto Il livello 2 Di forma fisica Va bene In realtà dovrebbe anche lei Aumentare un po' Di forma fisica Perché si è fatta Un po' più cicciottella Ma in realtà Mi va bene Perché non è che Adesso tutti i sim Dovano essere perfetti Con la linea O eccetera Quindi Mi va benissimo Torno a casa Ha già finito Il jogging Con lui Con lei E' una lei Perché dico lui Ok Ha fatto jogging Diciamo che comunque Abbiamo utilizzato un po' Il tempo Per fare un po' Di jogging Direi di venire qui Usa E vediamo un po' Se la lavatrice è finita Allora Prendi e posa il bucato Pulizia pulito Asciuttezza fradicio Quindi sposta Il bucato Sull'asciugatrice In realtà io volevo Vedere una cosa Se lo poso Cosa succede? Prendi e posa Sono curioso Di vedere Che cosa succede Se lo poso Perché Se è fradicio Posso Prendi le tasche E fa il bucato Aggiungi all'asciugatrice No Me lo mette solamente a terra E mi bagna tutto Perfetto Non pensavo Asciuga il bucato Qui nella Nella credenza Ho messo solamente Detersivo Di tutti i generi Vabbè Diciamo che per La lavanderia Serve Serve assolutamente Il detersivo Comunque l'ho messo Un po' troppo Forse Ma l'ho messo Qui c'è il cane Che è un po' stesso a terra Volevo fare una foto Ma non viene Possiamo farci un selfie Selfie Aspettate che faccio un selfie Selfie Fatti un selfie Nella tua nuova Casa Nella tua Bellissima Lavanderia Barra bagno Direi di fare Così Sì Va bene Anche se è un po' inquietante Come foto Però va bene Va bene Lo stesso Così ha acquisito anche lui L'abilità di fotografia E va bene Direi anche Magari di provare A cucinare qualcosa Così abbiamo già Pronto qualcosa Per quando si sveglia Valentina E poi volevo provare A fare questo percorso Ostacoli con Harmony Affrontiamo questo percorso Voglio vedere Che cosa succede Anche se spero Che Harmony Non si faccia niente Assolutamente Non mangiare Inutile che mangi Dopo ti faccio mangiare Con Valentina Anche Andiamo a fare Questo percorso Dai andiamo Ehm Si era un po' Bagato Sì In effetti Sì Allora Percorso Ostacoli 20 errori Vediamo un pochettino Come va Harmony Ok Ce l'ha fatta benissimo Perfetto Ok Guardate Molto molto brava Harmony Anche se lei già ha fatto Dei percorsi di agiti Quindi Per questo è anche un po' Più brava Si è andata benissimo Questo qui Pure ce l'ha fatta benissimo Perfetto Quindi ce l'ha fatta Senza problemi Non male Ma non perfetto Harmony ha ottenuto Un tempo di 29 minuti Con un errore Durante la corsa Va bene Quindi vediamo il dolcetto Come sempre Un'altra cosa Che volevo vedere Sì Sono curioso In effetti Volevo preparare Un pasto prelibato Per gli animali Visto che ci sono Volevo preparare Un pasto Però Enrico ha bisogno Del livello 2 di cucina Non è al livello 2 di cucina Ma di cosa stiamo parlando Allora Segui la ricetta casalinga Anche lei non è al livello 2 di cucina Non si andrà completamente a cucinare Allora No Lei non Lei ce l'ha uno Più o meno Lui pure ce l'ha uno Più o meno Vabbè Pensavo l'avessero un po' Più alto A livello di cucina Comunque questo episodio È stato molto Molto tranquillo Sono contento Un'altra cosa Un'altra cosa Aspettate Prima che me lo dimentico Volevo vedere un pochettino Visto che già me l'avete detto Volevo prendere Semi Ed ecco qui L'erba gatta Eccolo qui Continua la varietà di fiori Di erba gatta La piantare Da dare in pasto Al proprio gatto Anche se noi non abbiamo un gatto Ero curioso Di piantarla anche qui Quindi la piantiamo anche qua Non c'è problema Oh ma ci sono anche Tanti colori Erba quatta Erba matta Erba strofinata Ed erba gatta Sono tante erbe Vabbè dai Piantiamo Piantiamole Vediamo un pochettino Visto che ho messo anche queste Questi vasi Queste fioriere Direi di piantare anche queste piante Un po' strane Anche se a noi non serve L'erba gatta Va bene Questo fuoco Lo possiamo anche togliere Anche se Io sarei curioso Di fare una cosa Se li incendiamo tutti Mica c'è anche questo A incendiare No Infatti Dai forza Vediamo un pochettino Come va Ok Vediamo un po' come va Con tutti i dischi incendiati Due errori Tre errori Quattro errori Perfetto Ha sbagliato tutto Ha sbagliato tutto Va bene Non male ma non perfetto No direi che ha sbagliato Completamente tutto Quindi ha fatto Veramente schifo Ma Dettagli Ah Nel frattempo si reagisce Tranquillamente a un libro Direi che fa benissimo Con lui invece Dobbiamo raccogliere Dei pesci E prendere delle Delle piante Agnite Falls Perfetto Ok Quindi Vediamo un pochettino Gli abiti che sono usciti Dalla Asciugatrice Pulito Caldo Asciutto Wow Perfetto Prendiamo E posiamo il boccato A questo punto Eccolo qui Dove è finito? Mi sa che me l'hanno posato Direttamente Pulisci la vaschetta Della lanugine È un rischio di incendio Ho premuto un pulsante E si è svuotata Ah va bene Vabbè Comunque è ancora più realistico Perché è vero Che c'è anche la vaschetta Della lanugine Nella realtà E va bene Quindi direi Che abbiamo visto Un pochettino Tutto In questo episodio Volevo Provare Un'ultimissima volta Con Harmony Sono molto contento Anzi è stato Poi una ramanzina Sugli abai Che problema c'è Vediamo un pochettino E poi Volevo mandarla A cacciare Di nuovo Ma possiamo Mandarla a cacciare? Sì Mandiamola a cacciare No Volevo mandarla a cacciare Non Non mandarla Sul divano Allora Intanto Proviamo a spazzolarla Spazzola Spazzola Vi devo vedere Come funziona Quando spazzola Un animale Oh guardate Che carino Tutte queste interazioni Che non avevo mai provato Adesso Proviamo solamente A rimandarla A cacciare E poi terminiamo L'episodio Vediamo un pochettino Se ci porta qualcosa Io aspetto sempre Le mie amate piume Se me ne porti una Sinceramente Vi fai malarecchio E contento Quindi Wow 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 Cosa vai Non voglio che mi porti Una piume Ma non qualcosa Dai forza Dove sta andando? Oh come va veloce Quanti cani Che ci sono Su tutti i randaggi Poi Ce ne sono veramente Tantissimi È bellissimo Vivere a Brindleton Bay Ok dai Oh guardate Vai qui Poi sono bellissimi Tutti questi uccellini Sono fatti Anche se non benissimo Ma sono molto molto carini Vabbè un po' Lui sta cercando Nelle alghe Vediamo un po' Cosa trova Ha trovato qualcosa? Una scatolina Grazie Mille Harmony Sei veramente gentilissima Vediamo un pochettino Cosa ci porta Ok Ce l'ha portata a casa? Mi sa che ha finito Di cacciare però A questo punto Ecco qui Valentina Ecco qua Dove la sta portando? Dove la sta portando? Dove la porta? Ah beh L'ha portata qui Grazie mille Sei stata bravissima Harmony Speriamo che non sia Una pallina Perché mi sono scacciato Delle palline Una roccia spaziale Non riesco a trovare Le piume Lei comunque Sta continuando a cacciare Quindi vediamo Se trovo qualcos'altro Reagisci al regalo Degli animali Oh mio dio Dove sta andando? Una palla 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 Di nuovo Un'altra palla 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 Lei sta continuando A cacciare? Va bene Allora aspettiamo Finché non finisce Di cacciare Ed ecco qui Harmony Sembra che ha finito Di cacciare Nel frattempo Emanuele Penso un po' Malinconico Ci chiede Ho qualcosa di importante Da chiederti Ti piacerebbe Se passassimo Un po' Di tempo Assieme Sembra anche un po' Malinconico Non lo so Questo messaggio Così Comunque Abbiamo avuto Una palla E una roccia spaziale In realtà La roccia spaziale È particolare Come cosa Secondo me La potremmo anche mettere Per esempio Qui sulla mensola Del camino Se ci entra Si Ci entra Benissimo I libri Li rimettiamo Nelle librerie Non li lasciamo così Nettiamo Uno qui E uno qui E direi Assolutamente Perfetto Quindi direi Per questo episodio Può essere tutto In questo episodio Abbiamo visto un pochettino Tutte le famiglie Rimodernate Finalmente Valentina Enrico Ed Harmony Sono venuti qui A vivere Insieme Si trovano Veramente benissimo A Brindleton Bay Già hanno ospitato Il comitato di benvenuto E questa casa È veramente Super confortevole Anche per chi Ricontrara dall'alto Cioè per me Infatti Ho trovato Veramente bellissimo Giocare oggi A The Sims 4 Con questa casa Veramente stupendo Sono molto Molto soddisfatto Di me E poi Con Harmony Abbiamo visto un pochettino Un po' di azioni Con i cani Abbiamo anche fatto Il bucato Con la lavatrice E l'asciugatrice Che non l'avevamo mai fatto Abbiamo visto anche Un pochettino I dischi incendiati Del percorso Ad ostacoli Nel prossimo episodio In cui torniamo Da Valentina Ed Enrico State pronti Che andremo A Granite Falls Quindi Tenetevi pronti Per una vacanza Piena di insetti E di Prulito Sicuramente Ma anche piena Di erbe misteriose Da scoprire E va bene Quindi ci vediamo Al prossimo video Vi invito ad iscrivervi Lasciate tanti commentini Con i vostri pareri Lasciate like Condividere il video Con i vostri amici Ovviamente Vi invito anche A mettere mi piace Alla pagina Facebook Tante stories Metto ovviamente Sempre gli aggiornamenti Sui video del canale Ho fatto anche Per esempio Una sfida Sulle storie di Instagram Del 5 curiosità E io infatti Vi ho parlato Delle mie 5 curiosità Se non eravate iscritti Su Instagram Ve le siete perse Quindi Andate subito a seguirmi Così non vi perdete più Queste cose Va bene Quindi ci vediamo Al prossimo video E buon sims a tutti